Contra i candidati al Parlamento questa mattina nella sede di Bari, confronto aperto sul lavoro e fisco, l'area del vino. Dalle urne il lavoro è il titolo dell'iniziativa che l'Unione Sindacale Territoriale della CISL Bari ha organizzato per questa mattina. Obiettivo? Attivare un confronto sul lavoro e fisco, oltre le divisioni partitiche. Si tratta infatti di affrontare due dei temi centrali della campagna elettorale che preoccupano la Confederazione dei Lavoratori. Per questo il segretario generale della CISL di Bari, Giuseppe Bucuzzi, ha voluto incontrare i candidati al Parlamento. Mai come in questo momento storico servono proposte credibili, sottolinea, proposte capaci di essere attuate nella particolare realtà italiana che sconta ritardi e disallineamenti molto più gravi nel sud del nostro paese. Mancano pochi giorni alle votazioni e crediamo che siano giorni importanti in cui le scelte devono essere fatte in maniera ponderata dagli elettori e quindi abbiamo voluto incontrare i candidati territoriali al Parlamento per discutere di quelle che sono state anche le proposte che la CISL, la Confederazione con la nostra segretaria generale, ha presentato ai candidati in materia di lavoro, fisco, welfare e Europa. In particolar modo oggi ci concentreremo su quelle che possono essere le idee che i partiti dovranno portare al Parlamento su lavoro e fisco. Il lavoro che per quanto riguarda il territorio del Mezzogiorno, in particolar modo la nostra provincia, riguarda particolarmente la componente giovanile e la componente femminile.